Parte con il botto la campagna per il rafforzamento dell'organico dell'Arcantea neopromossa in DNA. La società ha infatti annunciato di aver acquisito nelle ultime ore Walter Santa Rossa, classe 1978, ala di 2 metri. Santa Rossa, sempre convocato nelle nazionali giovanili, vanta un passato importante sia in Serie A che in Lega 2, per non parlare della DNA, dove è reduce da ben due promozioni. Giocatore dal tiro da tre molto incisivo, ma soprattutto di una grandissima presenza difensiva, suo vero e proprio marchio di fabbrica, Santa Rossa garantisce impatto su entrambi i lati del campo ed una leadership indiscutibile. Sempre valida quindi la politica in casa Arcantea, per cui prima si sceglie la persona e i suoi valori e poi il giocatore. Il presidente Vincenzini ovviamente è soddisfatto dell'avvio della campagna acquisti. È un investimento importante da parte della società che va nella direzione di allestire una squadra solida e competitiva. Molto contento di riavere tra le sue fila Santa Rossa conosciuto ai tempi in cui giocava nella Don Bosco Livorno anche il coach Roberto Russo, che sottolinea quanto, l'ala di 2 metri, sia un giocatore tecnico, un agonista che nel corso degli anni ha saputo anche mutare il suo stile di gioco. Inoltre a un vincente, prosegue Russo, l'ha dimostrato negli anni e con la sua esperienza sa stare in mezzo ai più giovani ed indicare loro il giusto modo di stare in campo. Messo a segno il primo bersaglio, il general manager Maruganti è costantemente al lavoro per completare il roster, cercando di compiere i passi giusti senza frenesia. Il mercato è ancora lungo.